Non possiamo tornare con quelle due là? Se quelle gentili signore sono le vostre legittime consorti, temo proprio di sì. Ma certo che siamo le loro... Allora temo proprio che dovrete tornare da loro. Ma lei deve fare qualcosa, sua moglie dice che lei è molto bravo. Il suo moglie ha detto che è riuscito a aiutare persino Ettore Magino. Il suo moglie dice che lei è molto bravo. Il suo moglie dice che lei è molto bravo. Il suo moglie dice che lei è molto bravo. Proprio lei non la chiede. Perché? Che vuol dire? Lei che vive in casa con un'arpia come quella. Ma come si permette lei? È tutto scemo. E chi sarebbe la tua arpia? Razzadigrato. Dopo tutto quello che fa di lui. Ma tu che ti piccia di fatti loro? Tu sei asito. E non ti ha già andare a parlare con me se non ti ho autorizzato io. Avete capito? No dico, avete capito? Ma come può un po' con il cristiano come vivere? Il cane mi porta le pantofole. Mia moglie, ringhia. Davvero carino lui. Così io ringhio. E mordi? Mordere il proprio marito? Ma è disumano. Ho obiezione. E che c'entra l'obiezione adesso? Lei, avvocato, non può permettersi di dare giudizi. Che sono delle pure e semplici opinioni personali. Per di più, gratuite. Ma perché vorrebbe dire che mordere il proprio marito è una cosa normale? Non solo normale, ma può essere addirittura un gesto di grande affetto. Questa poi. Vedi, avvocato, c'è morso e morso. Ma che sta dicendo? Se un cane muove la cosa... ... ... Grazie.